bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video come al solito io sono gabi io birillo oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora toffaccino eccolo qui un liquido 30 ml con la boccetta per drippare le tank e torna comoda molto comodo un 70-30 zero nicotina zero nicotina al suo interno abbiamo toffi che sarebbe caramello per dei cioccolatini cappuccino e nocciola molto cremoso cremosi o sai che a me mi piacciono grazie andiamo a provarlo e a creare qualche confusione su questo liquido vai gabi dal prossimo acquata buono si sente subito il cappuccino subito cazzo giocapucci poi senti anche un po di nocciola e il caramello e il caramello 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 no non è male che quanto gli dai questo liquido io ci do un 7 e mezzo si un all day tutto il giorno va bene non ti smagli a chi piace cremosi non ti piace cremosi si perché tanti svappano magari due tre gusti del giorno perché i cremosi svappano con un po di frutta un po di tabaccosi io ce la farei a svappare tutto il giorno tranquillamente perché amo i cremosi si anche io penso allora volevo ringraziare svappo caffè il nostro negozio di riferimento dove facciamo i nostri acquisti a spezia marina di carara e castelnuovo magra un bel negozio ti sa dare qualsiasi informazione su qualsiasi cosa se volete passare a trovare è un bel negozio dalla tavola lo sopra è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordate che abbiamo la pagina su facebook e il canale su instagram se ci volete seguire noi siamo contenti di accogliervi dalla tavola lo sopra è tutto un bacio